Signore e signori, buon pomeriggio e ben ritrovati alla prima giornata di campionato tra Cerenza ed Accettura. Partono benissimo i padroni di casa che al terzo minuto passano in vantaggio con l'appoggio di Salandra e arriva il gol di Mancaniello in primo in stagione. Diventano due i gol al nono minuto, grandissimo calcio d'angolo di Salandra. Ianiello è attentissimo a fare questo colpo di testa, è 2-0 quindi. Minuto 16, colpo di testa di Salandra, incredibile la parata del portiere. Al diciottesimo la Cerenza, cala il Tris con un grandissimo Salandra che ancora passa la palla per Vincenzo. Vincenzo, la palla arriva a Cagnotiri, grandissimo 3-0. Minuto 23.30 arriva il calcio di punizione per la prima volta. L'Accettura ci prova ad attaccare la grandissima parata di Milesi, semplice, un intervento bello di Milesi. Al trentasettesimo minuto Salandra fa un'azione da fantascienza e fa un grandissimo gol a giro sul secondo palo. Finisce qui e adesso inizia il secondo tempo. Subito protagonista ancora Cerenza al secondo minuto. La palla di Salandra, Cagnotiri passa ancora, Calitri arriva il quinto gol e sono 5. 5-0. Siamo al trentunesimo minuto di gioco. La punizione per l'Accettura. Milesi si fa trovare pronto e fa capire che oggi la sua porta rimarrà in violata. Trentatresimo minuto di gioco. Calitri fa tutto bene. Davvero una cosa incredibile. Alza quel pallone, la traversa a dirgli di no. Sarebbe venuto giù lo stadio. Grandissimo Calitri, grandissimo. Trentottesimo minuto. In campo aperto la palla per l'Accettura che tira. Milesi fa una parata incredibile, incredibile. E dopo questo fischia così l'albitro. 5-0. A Cerenza batte Accettura. Grazie e buona giornata. Grazie.